57 nuovi positivi su 623 tamponi processati, due vittime ma anche 31 guariti. Sono questi in sintesi i dati dell'ultimo bollettino Aserem sull'emergenza Covid in regione. I decessi riguardano un 49enne di Isernia con patologie pregresse e un 85enne della casa di riposo di Ripabottoni. Per quanto riguarda i nuovi contagiati sono distribuiti in 23 comuni, spiccano i 10 casi di Isernia, i 7 casi di Oratino, Termoli e Venafro. In ospedale situazione sostanzialmente invariata con tre ricoveri e un dimesso. I pazienti ora al Cardarelli sono complessivamente 68. Intanto nelle ultime ore è tornato a riunirsi in regione il tavolo Covid con la partecipazione del presidente Toma, del direttore Aserem Florenzano e del commissario Giustini. Diverse le novità emerse. Mentre si lavora per arrivare preparati alla distribuzione del vaccino anti-Covid sul territorio sono stati resi noto anche i dati aggiornati sul vaccino anti-influenzale. Ad oggi 87.000 le dosi distribuite in regione. Si attende l'arrivo di altre 10.000 dalla protezione civile e ulteriori 10.000 dalla regione Campania. Florenzano ha poi dato alcune cifre sulle vittime del Covid. L'indice di letalità in Molise è pari al 2,5% mentre la media nazionale del 4%. Il tasso di mortalità che indica quante persone sono decedute per una malattia sul totale della popolazione vede il Molise a quota 39 mentre la media nazionale è 115.